Otto diari finalisti che raccontano le vite di gente comune che attraversa le tribolazioni private oppure quelle della grande storia ed un riconoscimento speciale per un grande artista come Francesco Guccini. E' questo il programma della 36esima edizione del Premio Pieve che dal 18 al 20 settembre torna nelle piazze di Pieve Santo Stefano, la città del diario dove le memorie autobiografiche sono raccolte dal 1984 grazie all'archivio dei diari. Come pagine bianche il tema scelto quest'anno. I testi scelti quest'anno in modo del tutto casuale perché la possibilità di consegnare testi per il concorso si chiude il 15 gennaio di ogni anno, in realtà i testi scelti riflettono questo momento. Sembra strano ma certi temi dominanti come la guerra ci sono ancora però sono coniugati insieme a storie che invece raccontano di una fragilità, di violenza sulle donne, di condizione femminile in contesti del dopoguerra. Raccontano di genocidi lontani e quasi dimenticati, raccontano di malattie, insomma raccontano anche di fratture che ci sono all'interno della nostra società. Ecco, questo è il premio, un premio che si affaccia a questo momento storico che stiamo vivendo. Non a caso l'abbiamo intitolato come pagine bianche, proprio perché pensiamo che anche attraverso la fondazione, anche attraverso le parole che la fondazione raccoglie ormai da 36 anni, si possa veramente riscrivere una pagina del nostro presente. Quella di quest'anno sarà indubbiamente un'edizione particolare con presenze ridotte ma con il sostegno della tecnologia. I diari di Pieve sono davvero ormai una consolidata tradizione che dimostra quanto sia importante la testimonianza contenuta in questa forma di comunicazione così particolare ma così anche intima e sentita. Quindi il successo ovviamente del museo ma di tutte le iniziative ovviamente che gravitano intorno al museo sono ormai davvero consolidate e credo che vengano anche quest'anno confermate pur nell'emergenza del Covid pur con le difficoltà che ci sono per le presenze ma che comunque saranno magari affidate a forme di comunicazione come social, come ovviamente altre modalità che oggi sono molto in voga per comunque essere sempre al centro di un'attenzione così importante e che poi si traduce anche con delle attenzioni verso il nostro territorio, verso le nostre produzioni e verso la nostra tradizione e cultura.